Il passaggio del Giro coincide con un momento molto importante per la nostra società. Abbiamo giocato gara 1 per l'accesso alla 2, quindi domenica giocheremo in casa a Pineto. Quindi è un momento di sport importante, ha coinciso con il passaggio del Giro d'Italia e vuole significare questo momento di convivialità con la squadra per compattarci, per unirci e per far trionfare quelli che sono i valori dello sport con il Giro d'Italia oggi e nello stesso tempo raccogliamo le energie, ci confrontiamo tutti quanti per prepararci al meglio per domenica. Ma io sono ancora molto, ma molto fiducioso perché domenica abbiamo giocato a Prata senza il nostro miglior giocatore che è Matteo Bertoli per un problema a un fianco. Lo stiamo recuperando, domenica giocherà al 100%, lo recupereremo. E quindi sono convinto che a Pineto faremo una grandissima prestazione, anche perché abbiamo fatto comunque una bellissima prestazione anche senza Matteo. Siamo molto contenti di questa tappa che devono fare tramite Pineto. Stiamo sotto questa cornice della Torre del Cerrano che sta al mio sfondo e sotto le colline del Cerrano. Un territorio meraviglioso e non abbiamo voluto far passare questo per alto come l'abbiamo fatto l'anno scorso di salutare a tutto il Giro d'Italia, che abbiamo voluto concentrarci oggi qui per salutare il Giro d'Italia e portare a amalgamare le nostre forze per l'evento, per la gara che andremo a confrontarci la prossima domenica, che è la gara a due.